Il mercoledì fanese sarà caratterizzato da una programmazione di concerti e poesie all'aria aperta. Le serate si svolgeranno nei locali della città che già da qualche settimana animano le vie cittadine con la propria attività e ospiteranno spazi musicali e tanto altro. Circa 30 concerti animeranno tutti i mercoledì fino alla fine di agosto coinvolgendo oltre 80 artisti, musicisti e poeti che proporranno una varietà di generi musicali dalla lirica al jazz, dal pop al rock fino alla musica classica e latinoamericano. È un invito che la città fa a tutti i propri cittadini, anche a quelli del territorio limitrofi e perché no ai turisti, a venire il mercoledì sera al centro storico e troveranno tante attività oltretutto gratuite con artisti assolutamente qualificati. Quindi la città che ha coniato lo slogan Amplenair decide di implementare questo slogan con gli artisti che in locali e luoghi di cultura all'aperto si esibiranno. Alle 21 ci sarà un'anteprima in versi, evidentemente si tratterà di poesia, poi dalle 21.15-21.20 partiranno i concerti che arriveranno a essere nel climax del 5 agosto, ben 6 in contemporanea. L'iniziativa inserita all'interno del progetto Fano Amplenair del Comune in collaborazione con le associazioni culturali della città e del contributo delle attività economiche prevede anche il Terzo Tempo, un'idea proposta dall'Orchestra Sinfonica Rossini, dove le serate termineranno con un raduno di musicisti e poeti per un momento unico dal vivo. Grazie. Grazie. Grazie.